Questa Pasqua insolita ce la siamo messa alle spalle, come si suol dire. Abbiamo chiesto allo storico ispicese, dottor Francesco Fronte, se negli anni passati ad ispica e simulacri del Cristo flagellato alla colonna, del Cristo che porta la croce, del Resuscitato e della Madonna, non sono usciti dalle loro nicchie. Ascoltiamo cosa ci raccontano le carte custodite negli archivi e studiate dallo storico Francesco Fronte in questa intervista rilasciata al nostro Piero Giunta. Dottor Francesco Fronte, la storia della Pasqua ispicefe cosa ci racconta? Ci sono stati anni dove il Cristo flagellato alla colonna, il Cristo che porta la croce, il Cristo risorto e la Madonna, non sono usciti dalle loro nicchie? Nelle ricerche d'archivio, la lettura di molti documenti ha evidenziato che la sospensione di alcune processioni, a volte anche per lunghi periodi, è scaturita principalmente da motivi di ordine pubblico. Infatti, sia nel corso del Seicento che del Settecento e dell'Ottocento, si sono verificati spiacevoli episodi che hanno spinto le autorità governative a proibire alcune processioni nell'antica Spaccaforno. Specialmente nella seconda metà del Settecento fino ai primi anni dell'Ottocento, la situazione sociale durante la Settimana Santa in particolare non permetteva un sereno e pacifico svolgimento delle processioni, dei riti e delle liturgie proprie di quel periodo. Dietro queste contrapposizioni fra le confraternite, apparentemente per contendersi un primato religioso ecclesiastico, in realtà si nascondevano le feroci lotte politiche all'interno della classe dirigente espicese, che in assenza degli Stadella, residenti prima a Palermo e poi a Napoli, quindi si lottavano per conquistare il primato politico-economico. Invece, paradossalmente, non solo in caso di siccità, carestia, fame, eccetera, ma anche di emergenza sanitaria, soprattutto per le frequenti epidemie di colera nel corso di tutto l'Ottocento, i simulacri venivano portati ugualmente in processione per chiedere la grazia di fermare le calamità, anche al di fuori del periodo delle celebrazioni quaresimale e pasquale, compromettendo ancora di più, nel caso di epidemie di colera, la salute di molti cittadini che violavano così i cordoni sanitari e la quarantena. Fu fatta eccezione dopo a seguito dell'epidemia di colera del 1837, quindi le celebrazioni del 1838, visto che l'epidemia era cessata da poco, saltarono completamente. La scienza medica di allora non era abbastanza evoluta e quindi non era in grado di contrastare queste manifestazioni di imprudenza e di ignoranza. Col tempo si è capito, ma fortunatamente non si sono verificate più epidemie gravi tranne l'influenza cosiddetta spagnola che è partita alla fine della Prima Guerra Mondiale e anche durante le due guerre mondiali, anche in situazioni molto tragiche, le processioni comunque si sono svolte. Sostanzialmente si può dire che l'attuale emergenza coronavirus è un evento inedito nella nostra storia e le misure di distanziamento che vengono imposte per impedire un contagio, che potrebbe fare anche decine e decine di migliaia di vittime. Da un lato ci aiutano a contenere la malattia in attesa di un vaccino, dall'altro ci hanno costretto a rinunciare alle nostre abitudini sociali e quindi anche alle nostre antiche tradizioni religiose. Quindi dobbiamo rinunciare ai nostri riti, alle nostre tradizioni per evitare assembramenti pericolosi per il diffondersi del contagio. E per quanto tempo? Solo la scienza può rispondere a questa domanda e di conseguenza il governo adotterà le misure opportune. Intanto nella settimana santa di quest'anno sono state adottate nuove modalità di celebrazione e liturgie dei nostri riti più famosi e più antichi, quelle cioè del giovedì santo, del venerdì santo e della Pasqua di resurrezione. Abbiamo tutti vissuto la quaresima e la settimana santa in una maniera completamente nuova, anche grazie alle tecnologie che ci hanno comunque aiutato a rimanere comunità in rete, nonostante le restrizioni di carattere fisico, ma virtualmente gli spicesi sono stati tutti attorno ai simulatri del Cristo alla Colonna, del Cristo con la Croce e del Risorto. L'augurio di tutti noi è che si possa uscire da questa emergenza al più presto, trovando anche il vaccino e i farmaci doni a vincere la malattia. Bisogna sperare, così da poter riprendere al più presto la vita sociale normale e quindi poter rivivere i nostri riti come li abbiamo sempre vissuti da generazione e generazione. In questa fase di transizione verso la soluzione dell'emergenza, come si possono salvaguardare le nostre tradizioni? Qui entra in gioco la storia, la memoria, quella tramandata alla cosiddetta storia orale, ma soprattutto quella degli archivi, che ci forniscono un mare di notizie che abbiamo il dovere di condividere con tutta la comunità e di renderla partecipe della propria storia, che nel caso di Ispica molto ruota attorno alle confraternite, alle due basiliche, ai loro culti celebrati nella settimana santa, in quanto elementi, come ho appunto scritto di recente, originari e fondanti della città di Ispica come dell'antica Spaccaforno. Quindi in attesa di tempi migliori, che sicuramente verranno, dobbiamo condividere le antiche memorie, come nelle scorse settimane si è fatte sui social, per custodirle e consegnarle un futuro, nel quale sicuramente rivedremo i nostri sacri e amati simulacri ripercorrere le vie della città. Ringrazio Franco Fronte, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica. A presto!